Ragazzi buongiorno da me e da Michele Ciao a tutti Stiamo andando a Fittà Qua c'è una chiesa con una campanella A coda ovviamente Anzi senza coda Stiamo andando in una località vicino di Soave Ma non vi diciamo niente E cosa possiamo dirvi? Qui è tutto ok Sono le 11.14 Dalla macchina di Michele Che sto prima guardando E niente Oggi Ecco Abbiamo appena passato Terra Rossa di Roncar E adesso Siamo più o meno A 3 km da Monteforte e dal Pone E niente Comunque Fa un caldo bestiale Ci sono 24 g di Celsius Veramente fa caldo Ah siamo vicini a Costa Lunga adesso Che riconosco il campanile E se volete andare a sentire Il campanile di Terra Rossa Roncar E Costa Lunga Andate a sentire su YouTube Perché non andiamo a riprendere Perché ci sono già altri video Da altri utenti E niente Ci vediamo Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Continuate a seguirci che appena possibile torneremo con i video ancora campanoni e faremo altro tipo di giro di video.